Tutto il materiale audio video fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori pertanto libero da copyright. Ehi non ci lasciare. Restate in ascolto tra poco la nuova puntata di musicando il ballo in radio. Hai scelto il meglio te ne accorgerai. RDA radio 1 radio ballerina one radio staff tre emittenti un denominatore comune professionalità multimediale ascoltaci. Ehi non ci lasciare. Per una pubblicità dinamica e vincente affidati a noi affidati ai pionieri delle radio libere degli anni settanta la nostra comprovata esperienza ti consiglierà il modo giusto per la promozione dei tuoi servizi o del tuo prodotto affida il tuo nome il tuo marchio ai professionisti di ieri per il tuo successo commerciale di oggi. Per la pubblicità su radio staff chiama il numero tre quattro zero sette cinque cinque nove tre nove due. La scelta vincente. È musica, è sport, è informazione, è spettacolo. Ciao Nando, hai letto il giornale? Occhio elettronico controlla i nostri spostamenti. E guarda qui pagheremo il caffè con l'impronta del pollice. Per aprire la porta di casa basterà guardare con un occhio in una telecamera. Pensa che il mio nipote per accendere il cellulare mette il pollice sullo schermo. Mi sembra un fil di fantascienza, non so che dire, non abbiamo più nulla di umano. Ma non è vero, vieni con me, ti faccio recuperare per almeno un'ora un po' di umanità. Che meraviglia! Anvedi, un registratore a cassette. Ma guarda quanti dischi. E quello cos'è? Urra, Evox! Ma questo è un emittente degli anni settanta. Fantastico! Ma ti ricordi a quei tempi le ragazze ci aspettavano sotto la radio a farci la serenata con le chitarre? Altro che chattare con i social. Ma ricordi gli amici del muretto? Giocare al flipper nel barra? E la tua 500 dove tenevi il pallone? Ma se accendi il bottone del mixer si potrebbe trasmettere come una volta? Certo, questa è Stapp Radio, si torna al passato. Dai, fai partire la cassetta della sigla. In diretta stiamo per trasmettere... Cantando, ballando e musicando. Il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Buonasera a tutti, buon ascolto e soprattutto buon anno, perché questa è la prima trasmissione del 2017 di Cantando, Ballando e Musicando al ballo in radio. Tony Mantineo è un microfono influenzatissimo. Sono più di 15 giorni che questi problemi nasali di gola non mi danno la possibilità di essere al top, al meglio. E ciò nonostante dobbiamo lavorare con la voce o alla radio durante le serate, anche a Capodanno è successa la stessa cosa. Quindi con queste influenze di stagione che quest'anno sono state sicuramente più aggressive. Non ci danno la possibilità di essere al meglio, ma noi ce la metteremo senz'altro tutta per realizzare la puntata numero 90. Questa sera raggiungiamo ancora un numero tondo per quanto riguarda la programmazione di questa trasmissione. Allora, eccoci qui a dare gli auguri soprattutto alla direzione di rete, a Stefanotini di Stapparadio, auguri a tutti i colleghi di Stapparadio, augurissimi che sia veramente un anno di grande crescita per tutta l'emittente, per tutto il circuito. A proposito di circuito, anche a RDA Radio 1, Roberto De Angelis, che veramente è furioso dopo la vittoria di ieri, poi parleremo durante la trasmissione per quanto riguarda il pezzetto dedicato al calcio, quindi parallelismo tra calcio e il ballo, non mancherà anche questa sera. Insomma, una bella puntata per aprire alla grande, per aprire in maniera scoppiettante questo 2017, anno nuovo, si pensa sempre nuove programmazioni, nuove cose che poi, guardate, credetemi, alla fine non è altro che la continuazione del 2016 e però, sai, quando c'è questo confine di calendario uno si sente magari, non lo so, magari psicologicamente più attratto da quello che può essere una nuova condizione, nuove cose che si prospettano all'orizzonte. Comunque, siamo positivi perché parleremo ovviamente di ballo, siamo, non dico alla vigilia, ma mancano due settimane appena, se togliamo questi pochi giorni che ci separano dal 15, per la competizione di ballo del 29 che si svolgerà presso il gran salone di Palestrina della Rondinella. C'è la gara di ballo molto importante, diversi stanno aderendo, quindi dobbiamo dare delle informazioni a quei maestri che in qualche modo vogliono rientrare nel circuito del Gran Premio del Lazio. E insomma, puntata particolare. Ultima nota, prima di cominciare, ma non per questo meno importante, saluti e auguri a tutti i nostri radio-telespettatori, agli amici di Musicando, tutti quelli del club, anche ai simpatizzanti, anche a coloro che non sono amici, ma tutti quelli che in qualche modo ci conoscono. Auguri, auguri, auguri. E finalmente cominciamo quello che è la puntata di oggi, la numero 90, ripeto, la prima del 2017. E per cominciare mi sembra doveroso fare uno step indietro, usiamo questa parola visto che questa è una trasmissione di ballo, quindi un passo indietro per poterci riallacciare fin dove ci eravamo lasciati, praticamente a prima di Natale, con grandi serate organizzate dal gruppo Luna Fontevivola, con serate speciali che abbiamo organizzato anche con l'associazione Roccapriora nel cuore, proprio a Roccapriora, questa città fantastica, questa comunità montana, dove c'è un'area veramente straordinaria, dove abbiamo avuto la possibilità di ritrovare vecchi amici. Abbiamo avuto una seratissima con Nick Luciani, questo cantante che ha militato per molti anni in un gruppo degli anni 70, adesso si è staccato, ha creato delle produzioni discografiche nuove, sono state presentate in questa bellissima serata, poco prima di Natale, io ho avuto il piacere di presentare l'artista, stare lì nella serata, a sala gremita, veramente quando noi vi diciamo, signori amici di Musicando, venite alle nostre serate, io lo dico sempre, non è per fare cassetta, non è per fare business, ma è solamente perché sono delle occasioni uniche, particolari, noi ben sapete che puntiamo solo a dare il meglio ai nostri radio telespettatori, e offrire delle serate speciali, che magari non è possibile vivere in altri posti, certo ci saranno dei luoghi, dei locali dove si fanno cose straordinarie, ma le nostre sono selezionate, sono particolari, e poi noi siamo amici di questo club virtuale, il club di Musicando, che ormai va avanti da lontano 1998. E dopo queste serate abbiamo preso l'influenza e abbiamo fatto un capodanno tra feste private, quindi non abbiamo svolto sedate nei luoghi pubblici, ve l'ho raccontato anche negli anni passati, quando arriva il capodanno a me prende un po' di malinconia, perché nei soliti locali, i soliti menu, le solite cose, le solite orchestre, allora anche per quest'anno abbiamo deciso, la piazza no, perché è freddo, perché non ci sono le condizioni, allora abbiamo optato per una festa privata tra amici, ed è andato benissimo, saluto tutti gli amici con i quali abbiamo trascorso il passaggio dal 2016 al 2017. Subito dopo il capodanno, ancora a letto con queste influenze di stagioni, finché doverosamente sabato scorso, che era il 7, sono stato impegnato di nuovo con il gruppo Luna all'antica fonte a Fonte Viola, e dove si è svolta ancora un'altra edizione di Star per una Notte Gold, la serata di canto con i cantanti, con le giurie di professionisti, con tutta una serie di occasioni veramente divertenti. E sabato passato, come ospite principale dell'evento Star per una Notte, c'è stata la partecipazione di Oscar Biglia, il cabarettista, che viene dall'area Zellig, e che ha fatto divertire il pubblico in un modo straordinario. Nell'occasione ci ha parlato di queste nuove tecnologie in maniera ironica, su come condizionano un po' tutti noi, ed è stata veramente una bella serata, oltre ai cantanti che si sono comportati straordinariamente bene, tanto è vero che la giuria ha avuto difficoltà nel trovare i 5 vincenti, perché tutti erano veramente di grande caratura tecnica, cantavano tutti alla grande. E a proposito di Star per una Notte, io vi invito già sabato prossimo, saremo in un agriturismo in zona di Vignanello, sempre nella Tuscia. Ormai io sono diventato un conoscitore di queste località, sto conoscendo delle realtà particolari, straordinari, dei locali nuovi, che veramente offrono tantissimo ai loro clienti. E questa Agrilaquiete si chiama, sta sulla statale Canepina, al chilometro 3 e 5. Noi saremo lì sabato con tutto il gruppo Luna, con i cantanti. Sabato scorso erano 21 concorrenti, e penso che altrettanto saranno per la serata di sabato. Per cui se c'è qualcuno tra gli amici di Musicando, oppure che casualmente sta ascoltando la radio, sta ascoltando Stapp Radio e la trasmissione del ballo e radio, e magari avete bellità artistiche di cantare, potete partecipare perché è gratuito. E c'è solo la scena che è una scena di sciocchezza, stiamo intorno ai 15-18 euro, per cui stiamo nella norma, come in qualsivoglia locale. E quindi c'è anche la possibilità dello spettacolo, di cantare, di stare bene insieme. Pertanto è ancora l'invito che lanciamo ai nostri radio telespettatori per stare insieme con il club Amici di Musicando. Ma prima di sabato io sto cercando la conferma con l'organizzatore dell'associazione Rocca Priora nel cuore, perché noi il 12, giovedì 12, a ristorante L'Antico Romano, che si trova a Rocca Priora, dovremmo avere un'altra serata. A partire dalle ore 18, serata danzante, serata di canto. Anche qui c'è la possibilità di cantare, si balla, si scena, ad un prezzo veramente, anche qui, alla portata di tutti, straordinario. Questo a Rocca Priora, via Roma numero 37, c'è questo locale che ha cambiato gestione. E quindi saremo anche qui a svolgere delle attività artistiche. Vi aspettiamo questa volta per gli amici dei Castelli Romani. Come vedete, lavoriamo in una parte, non noi, ecco, non sono serate di Musicando né mie. Io vengo chiamato come conduttore, come intrattenitore, per cui in qualche modo siamo convolti in due province. Una la zona di Viterbo, la zona della Tuscia, con il gruppo Luna, e l'altra con l'associazione Rocca Priora nel cuore per tutta la zona dei Castelli Romani. Pertanto, visto che la radio e i nostri radioascoltatori sono ovunque, potete scegliere la località a voi più congeniale. E dopo questo taccuino immediato che riguarda le nostre attività che abbiamo svolto, che siamo in procinto di svolgere tra pochi giorni, iniziamo immediatamente a parlare di ballo. Ma prima ancora di inoltrarci in quello che sono gli argomenti di oggi, volevo darvi il taccuino dei contatti e soprattutto della nostra proposta radio televisiva. Voglio ricordare a tutti gli amici che mi stanno ascoltando che questa trasmissione va in replica Giovedì Sera su RDA Radio 1, intorno alle ore 21, ci ripete il Giovedì Sera alle ore 21 su RDA Radio 1, basta digitare su Google RDA Radio ed esce di tutto e di più. Poi sempre il Giovedì Sera, intorno alle 22, dovrebbe ricominciare la trasmissione Il Ballo in TV e la potete seguire sul nostro network. Vi posso anticipare che Giovedì Sera vedremo un saggio di Natale di una scuola di ballo che noi abbiamo ripreso poco prima di Natale, dove abbiamo raccolto tante esibizioni spettacolari del club Epidens. Quindi grande appuntamento Giovedì Sera con Il Ballo in TV. Poi mi stavano dicendo i ragazzi che dovrebbero esserci anche delle immagini che riguardano le gare del Gran Premio del Lazio, quindi vedremo competitori in azione per quanto riguarda anche il ballo sportivo. E poi se non sbaglio dovremmo anche avere delle immagini della gara svolta a Gaeta addirittura il 27 novembre, quindi un po' arretrati, ma il ballo a mio avviso non ha scadenza, lo si può vedere sempre, anche se magari ci sono competizioni di vecchia data, ma queste sono recenti perché sono di poche settimane fa. Poi volevo ricordare e salutare anche i ragazzi di Tuscia TV, ai quali abbiamo dato la concessione del programma Musicando, abbiamo dato anche la concessione delle riprese per quanto riguarda le competizioni, gli spettacoli. A proposito, Tuscia TV sarà presente sabato sera fare le riprese presso l'Agri, la Quiete, questo locale in zona Vignanello dove ci sarà star per una notte gold, quindi presenza anche di Tuscia TV. E poi ultima nota, se volete indirizzare le e-mail, se volete anche un po' di pubblicità delle vostre serate, dei vostri eventi, delle vostre gare di ballo, dei vostri veglioni, insomma di tutto quello che fa parte di arte e spettacolo, utilizzate questa casella cosediballochiocciolalibero.it Spesso molti amici, gestori di locali, mi inviano le locandine e le loro attività sulla pagina del club di Musicando, ma quello è un club privato, però se volete utilizzare magari Musicando, il ballo in tv e il ballo in radio per promuovere le vostre attività, utilizzate questa casella, è molto semplice, cosediballochiocciolalibero.it Poi la nostra redazione vaglia quello che sono le varie attività che arrivano e poi quelle che vengono ritenute veritiere vengono proposte attraverso la radio o la televisione o ballo in tv o ballo in radio. Ultima nota ancora, sempre all'interno della settimana abbiamo pensato il mercoledì di creare un appuntamento ulteriore con l'emittente radio ballerina, quindi una trasmissione supplementare del ballo in radio che si chiamerà Controdanza, per cui ascoltateci anche il mercoledì sera, sempre ovviamente perché la sera è dove noi ci sentiamo meglio per poter parlare a tutti voi. E per essere informati quindi su tutte queste attività che alla radio sembrano sfuggenti è consigliabile andare sul gruppo pubblico di Facebook Amici di Musicando dove trovate di volta in volta il tabellino che vi indica questi appuntamenti se volete seguirci passo passo, step dopo step. Finalmente adesso possiamo cominciare a parlare di ballo, gare di ballo, sale da ballo e quant'altro. Dopo questo breve stacco pronti ad introdurci nell'argomento primario direi di cominciare a parlare di competizioni di ballo sportivo. Personalmente sono Reduce dalla gara del 27 novembre scorso svolta a Gaeta questo festival nazionale di ballo spettacolo organizzato dal maestro Fabio Pedagna ha avuto anche la presenza come ospite di Natalia Titova ha avuto una grande partecipazione di scuole di ballo non solamente del Lazio Sud ma un po' ovunque anche dalla zona di Roma. In quell'occasione io sono stato giudice di gara ho anche condotto una parte della manifestazione come presentatore e ci siamo particolarmente divertiti perché vedere dei palasporti gremiti in ogni ordine di posto è sempre piacevole è stata all'altezza della situazione quindi complimenti al coordinatore Lazio della FIBES della Federazione Italiana Ballo Spettacolo che ci ha regalato questa giornata straordinaria. Successivamente l'11 dicembre si è svolto il Grand Meeting di Natale e qui sono stato ancora partecipe in prima persona perché sono stato chiamato dal coordinamento Roma come direttore di gara con un compito più impegnativo perché il direttore di gara, e lo dice la parola stessa deve dirigere la gara ma poi ha anche una responsabilità non solo oggettiva ma fondamentale su tutto perché in pochi secondi devono prendersi delle decisioni anche importanti non so, succede un qualcosa di inatteso e devi anche sospendere la gara con tutte le problematiche quindi il direttore di gara ha una funzione di primordine in quello che sono le competizioni di ballo sportivo oltre all'organizzatore per quanto riguarda la responsabilità oggettiva e questo mio ruolo ormai da molti anni penso di svolgerlo abbastanza bene dopo aver praticato diversi corsi dopo aver studiato tantissimo pensatevi, confesso che io tutti i giorni apro libri che riguardano un po' la giurisprudenza l'associazionismo sportivo le varie sentenze di cassazione su varie problematiche insomma mi sto addentrando in quello che è anche l'aspetto giuridico perché non solamente un bravo direttore di gara a mio avviso deve conoscere le figure del ballo quello è il minimo o secondo me ne può anche fare a meno ma per dirigere quello che è un evento bisogna conoscere tutte le altre normative di contorno anche giuridiche che fanno parte dell'evento stesso proprio perché se in 30 secondi devi prendere una decisione per un fatto immediato che accade devi essere preparato per quanto riguarda invece i compiti come amministrazione della gara stessa per esempio le batterie di gara vedere chi far ballare prima chi far ballare dopo problemi che ha quel club con quell'altro cercare di decifrare quello che sono magari i fogli cosiddetti pilota che spesso sono scritti dai colleghi che partecipano alla gara appena magari con delle calligrafie possiamo dire da medico anche qui il problema si pone in pochi secondi da risolvere e così vi ho dato questa sera eccezionalmente un'ampia panoramica di quello che io svolgo quando vengo chiamato in questo ruolo e devo dire che è un compito che qualche volta fa venire mal di testa ve lo giuro anche perché spesso io assumo questo ruolo ma anche il ruolo di presentatore questo per far sì di guadagnare tempo perché tutta poi la documentazione del direttore di gara deve essere trasmessa a un'altra persona che dovrebbe essere lo speaker e questo poi la deve annunciare pensate io quando ho proposto ma se invece che trasmettere tutte queste nozioni a un'altra persona che poi le deve decifrare le deve annunciare la fa direttamente la persona che dirige la gara ma non è meglio e quindi in questa organizzazione in questo board si è pensato che il direttore di gara può svolgere anche la funzione di speaker ovviamente se ha l'altezza e io credo con tanti anni di 40 anni e più che riesco a parlare ai microfoni che riesco a parlare al pubblico riesco anche attraverso quello che sono stati i corsi l'addestramento a praticare ampiamente in modo soddisfacente questi ruoli pertanto ho pensato in questo avvio di stagione di nuovo anno 2017 in un programma che parla di ballo ballo sportivo e ballo popolare cercare di dare delle informazioni a chi ci ascolta anche è utile affinché la trasmissione non diventi noiosa che ne so già parlarvi di queste figure dei compiti delle varie figure che compongono una gara di ballo sportivo prendo esempio da questa perché ci sono dentro perché purtroppo poi ogni associazione ogni ente ogni federazione ha delle sue regole proprie che sono diverse magari da un altro ente da un'altra federazione essendo addentro alla FIBES vi posso parlare di questi meccanismi che avvengono dentro questa confederazione perché la FIBES voglio ricordare è una confederazione di più federazioni e quando più federazioni si mettono insieme faccio il paragone con i sindacati no? CGL, Cislequille quelli li chiamano i confederati anche la FIBES è una confederazione perché unisce la federazione italiana ballo e spettacolo federazione italiana social dance fondazione italiana danza e spettacolo per cui tre federazioni insieme diventano una confederazione quindi un grosso ente non c'è dubbio per avvicinare quelle persone che vogliono comprendere meglio cosa accade in una gara di ballo vi parlo anche di un'altra figura vicino al direttore di gara che si chiama commissario di gara ed è questa una figura che ha il compito di collaborare strettamente col direttore di gara è una sorta di braccio destro che ha il compito di vigilare su tutto quanto avviene all'interno della gara il commissario di gara è una sorta di filtro possiamo dire con la direzione di gara per esempio se io ho un problema di dare una comunicazione a un club a un maestro una comunicazione particolare magari nella location chiamo il commissario di gara do l'informazione e dico vai a dare questa informazione a questo o a quello o a svolgere quella funzione quindi è un compito altamente importante e anche qui la persona deve essere qualificata deve conoscere alcune normative che riguardano l'inquadramento degli eventi come si svolgono gli eventi la giurisprudenza e deve anche sapere districarsi in quello che sono le situazioni tecniche del ballo stesso un'altra figura che fa parte delle gare è il commissario di pista e qui lo dice la parola lui deve vigilare su tutto quello che accade nella pista che ne so magari che il capitano di una squadra di ballo in gruppo debba avere il numero ben applicato in una parte diciamo dell'abbigliamento che soprattutto i competitori coloro che ballano non masticano il chewing gum durante il ballo di gara questo è importante perché vediamo delle persone che tranquillamente mentre ballano masticare il chewing gum e questo è pericolosissimo per cui deve avere un occhio vigile questo commissario di pista nel guardare tutte queste eventuali infrazioni quindi contare i numeri dei ballerini vedere se c'è un'invasione di pista magari di terzi insomma tutte le situazioni lo possiamo paragonare a una sorta di quarto uomo del calcio ecco quello una sorta diciamo oppure anche di guardialine per quanto riguarda l'ambito l'ambito della pista più ce ne sono di commissari di pista in una competizione di ballo e meglio è perché si dividono i compiti e come si dice più occhi guardano meglio di due e vi posso dire che sono diverse le infrazioni che spesso commettono coloro che ballano anche perché c'è poi un regolamento da rispettare oppure nei comportamenti generali poi dal commissario di pista nelle gare c'è anche una sorta di vedete spesso delle persone sedute a dei lunghi tavoli che svolgono mansioni che ne so davanti a un computer oppure che magari trafficano con dei fogli o svolgono altre situazioni che chissà da fuori dice ma quei signori quelle signore cosa fanno lì dietro in Fibes vengono chiamati segretari di gara o assistenti di gara quindi hanno il compito della verbalizzazione del controllo delle schede delle iscrizioni assegnare i numeri di gara ai competitori quindi tutte quelle funzioni tecniche che servono come rifinitura di quello che è la competizione stessa ed hanno un ruolo importante perché sono come si dice il fulcro del lavoro hanno anche il compito di verbalizzare i risultati di gara insieme alla direzione di gara quindi vedete che grande intreccio di lavoro che c'è dietro una gara di ballo voi magari dalla tribuna vedete solamente coppie o ballerini che ballano in squadra in coppia però dietro c'è tutto questo lavoro che pensate spesso voi non lo sapete deve essere allestito tutto in due tre ore prima della gara quindi con la strumentazione con le persone con tutto quello che anche materialmente occorre per far funzionare una competizione di ballo sportivo un'altra cosa che forse non si dà conoscenza è che queste persone lavorano in modo volontario sono dei volontari o raramente hanno dei piccoli rimborsi spesi per cui devono impegnarsi tutta la domenica per tutto l'arco della gara rendersi liberi per essere presenti a svolgere queste funzioni competizioni quindi immaginerete che ci vuole una passione particolare per partecipare ogni volta in un torneo di ballo invece poi ci sono altre federazioni più importanti più grandi ai quali a queste persone danno quelle che noi chiamiamo le famose gettonelle quelle dei rimborsi spese più consistenti ma questo poi è un altro livello di lavoro e di professione io posso dire che ormai da tanti anni sono addentro a questo settore io vengo dal mondo per esempio molto diverso del ballo classico io con una ex compagna organizzavo nei teatri balletti di danza classica serate di arte varia anche con balli di gruppo che a quel tempo noi chiamavamo solamente balletti poi un giorno quando lasciai questo tipo di organizzazione di spettacoli di fare l'impresario di questi spettacoli ebbi l'idea di aprire una sala da ballo un locale da ballo e lì non so se per fortuna o per disgrazia veni a contatto con questo tipo di ballo sportivo erano a metà degli anni 90 più o meno tra gli anni 80 e gli anni 90 quando in Italia a Roma soprattutto cominciò a divulgarsi questo ballo in gruppo venivano la sera a ballare nel mio locale delle commitive di persone che a un certo punto venivano a chiedere ma ci mettete quel ballo che era la fisariasca ci mettete la lambada erano tutti i primi pezzi il mambo cominciavano a ballarlo in gruppo come un cerchio e io cominciai a pensare ma qui sta cambiando qualche cosa nel modo di ballare eravamo più o meno agli inizi degli anni 90 e questa è un po' la mia storia diciamo come esperto del ballo come tecnico federale di una federazione come esperto un po' in settore e per cui dopo tanti anni dopo aver conosciuto proprio in quel locale maestri di ballo che venivano ma senta possiamo venire a fare un'esibizione di ballerini nel suo locale e io signori mi aspettavo le mie ballerine quelle del teatro che ne so dei costumi così quando poi mi vede arrivare dei ragazzi che questo maestro mi diceva questi sono campioni regionali di liscio erano due ragazzettine ricordo a cui una ragazzetta di 15 anni con un abito viola lungo lui con questo abitino in camicia aveva una giacca con farfallino io non avevo mai vista la danza sportiva cominciai a vedere questi che ballavano stavamo mettendo le musiche il ragazzo venne da noi mi disse sfuma sfuma questa canzone perché non più di un minuto e mezzo ballate un minuto e mezzo le mie ballerine le facevo ballare 4-5 minuti facevano i spettacoli nei teatri la prima cosa che mi chiese ma questi ballano solamente un minuto e 30 poi si stancano questa era la prima domanda che mi venne poi ho cominciato a studiare il perché che ballare circa un minuto e 40 equivale a fare una corsa di 400 metri insomma ho imparato tutte queste nozioni e ho cominciato ad appassionarmi al ballo sportivo e piano piano vi giuro però appassionandomi al ballo sportivo ho visto anche delle cose che non mi quadravano per esempio a un maestro gli chiesti senti ma come mai ballate due volte il vienese una volta l'avete ballato nel liscio e adesso lo ballate nello standard ma come mai questa cosa qui e questo maestro non mi diede una risposta soddisfacente io ancora poi quel dubbio di ballare due volte il vienese una volta nel liscio e una volta nello standard ci abbiamo fatto poi un cavallo di battaglia negli ultimi anni ecco perché quando io bonariamente vi dico che a volte le cose più strane nel ballo io le ho viste nella danza sportiva e mi dovete credere perché con gli occhi di una persona che viene da un altro mondo da fuori da un certo tipo di ballo compassato studiato coreografato in un certo modo con le quinte con le ribalte con i teatri con certe luci con certi costumi vedere poi un mondo totalmente diverso diciamo che il salto e le difficoltà nell'avvicinare ad accettare poi certe incongruenze è stata notevole ecco questo è un po' l'insieme che vi ho dato ogni settimana vi darò delle informazioni per accedere meglio e per conoscere se vi va magari anche a voi di entrare nel ballo sportivo ma io credo che però la maggior parte di coloro che ascoltano la trasmissione il ballo in tv ballo in radio sono per lo più addetti ai lavori che io saluto auguro buon anno anzi a proposito non l'ho fatto prima in apertura lo faccio adesso a tutti i maestri tutti i ballerini ma di qualsiasi federazione perché il ballo a mio avviso non ha bisogno di steccati di orticelli io sono di quella federazione con te non ci parlo ma chi quello ma signori ma facciamo tutti la stessa cosa chi in un modo chi in un altro ma il nostro obiettivo è quello di ballare di divertirci di stare insieme di creare un qualche cosa per i nostri iscritti quindi a mio avviso è molto inutile questa divisione io sono meglio di te io no per esempio noi nelle nostre gare facciamo delle cose che abbiamo visto che ai ballerini al pubblico piace altri faranno delle altre cose ai quali loro ballerini i loro iscritti i loro maestri piace fare quelle cose lì c'è a chi piace ballare due volte il viennese e a chi no ma il mondo è bello perché è vario per cui io vi abbraccio tutti vi faccio i migliori auguri l'importante è che questo ballo non manca anzi vi annuncio subito vi dico una cosa personale che mi riguarda sto ritornando a ballare ho trovato finalmente una ballerina con i quali posso ancora fare valse in inglese tango foxtrot qui step rumba cia 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 e quant'altro non potete capire che gioia quando si ritorna in pista c'è sempre quell'emozione quella carica quella adrenalina di indossare magari un abbigliamento di allenamento e tornare che ne so un paio di volte a settimana ad allenarsi da qualche parte vi giuro che guardate il fisico e soprattutto la salute ne guadagna in una maniera incredibile quindi se potete andate a ballare a prescindere dalla testa dalla salda dagli stick pensate solamente a ballare regia io direi prima di entrare nelle prossime notizie che vorrei darvi sulla competizione del 29 gennaio che si svolgerà in questo grande salone che si chiama Rondinella Palestrina la gara Fibes terzo turno del Gran Premio del Lazio torneo a ranking dove si sommano i punti delle varie gare fino alla finale del 9 luglio che si svolgerà ancora a Palestrina poi daremo altre notizie agli addetti ai lavori che vogliono partecipare alle gare diamo la linea al nostro tecnico del suono ho bisogno di un bicchiere d'acqua primo blocco pubblicitario pubblicità per noi poi torneremo ancora a parlare di ballo a tra poco alla ripresa del campionato tutto è ancora da giocare arriva l'occasione giusta per i nuovi club per rientrare in classifica Gran Premio del Lazio di ballo e spettacolo non mancate al terzo incontro per domenica 29 gennaio a Palestrina presso il Gran Salone del Centro Sportivo Rondinella Gran Premio del Lazio 12 specialità per balli in gruppo tutti gli stili classi e categorie per balli in coppia inoltre gare di rueda festival di coreografie inedite e il festival dei ricordi per una competizione completa e spettacolare iscrizioni come sempre a quote popolari Gran Premio del Lazio appuntamento per domenica 29 gennaio 2017 per la terza giornata del campionato a ranking più avvincente informazioni digitando Gran Premio del Lazio nei motori di ricerca la gara avrà luogo in un ambiente elegante dai migliori comfort per ballerini e pubblico Gran Premio del Lazio domenica 29 gennaio a Palestrina in provincia di Roma vi aspettiamo per una grande giornata di ballo sport e spettacolo segui le nostre attività multimediali anche su Facebook iscriviti al gruppo Amici di Musicando un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione ti aspettiamo riprende un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricco e appassionante con cantando ballando e musicando il ballo in tv un'ampia panoramica sul ballo la danza e lo spettacolo con notizie interviste servizi per sale da ballo competizioni feste di piazza musica orchestre e lezioni di ballo il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica inimitabile da ben 18 anni cantando ballando e musicando il ballo in tv seguila in rete la tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienze e professionalità nel campo della comunicazione affida la pubblicità del tuo locale a musicando il ballo in tv per la pubblicità su radio stamp chiama il numero 340-75-59-392 sei all'ascolto di musicando il ballo in radio bene torniamo in diretta sono le 21 33 minuti primi in diretta da Stapp Radio Stapp Radio STAP si torna al passato si trasmette al presente grande acronimo qui Stefanotini che ha inventato sta STAP c'è tutta una storia dietro a sto nuovo che poi alla fine è venuto questo acronimo fantastico che devo dire si torna al passato qui avete sentito la sigla iniziale noi ci rionizziamo ma è vero noi siamo nati alla radio noi avevamo la radio sul balcone io Roberto De Angelis e gli altri ci disturbavamo a vicenda con le antenne con i televisori vabbè tutta una storia che vi ho raccontato più volte ma che fa parte poi anche alla fine della nostra cultura italiana come comunicatori a partire dal 1974-75 anno in cui fu abbattuto sto monopolio allora eccoci qui salutiamo gli amici che cominciano a mettere i cliccaggi qui vediamo chi sono Giuliano De Profetis oh grande musicista che abbiamo ritrovato fisarmonicista Giuliano io di te abbiamo ancora le cassette quando venivi a telesimpati con te con tua moglie con tuo padre montavate la tastiera dentro lo studio facevamo le suonate in diretta suonavate liscio in diretta nella trasmissione il ballo in tv noi stiamo riprendendo queste immagini di archivio faremo la nostra storia proprio su una televisione web la nostra storia del ballo in tv partirà penso già dalle prossime settimane e Giuliano ripetremo quelle belle cose quando ci cantavi e suonavi in diretta durante la trasmissione su telesimpari e tutti i colleghi maestri tutti i ballerini a guardare questa trasmissione il mercoledì sera su telesimpari ma è una cosa straordinaria che ha fatto la storia su Roma poi sulla capitale la prima trasmissione sul ballo poi adesso c'è di tutto e di più non si capisce più niente col web con altri canali ma insomma all'epoca quando c'erano i canali dal 21 al 69 noi eravamo lì al canale 47 all'inizio cioè stavamo proprio lì al centro per cui chi passava su Roma alle 23 di sera vedeva in diretta le gare di ballo di Frascati di Ariccia di Santa Marinella tutte le gare di ballo Galà del Lamba di queste e di quell'altra abbiamo trasmesso di tutte e di più interviste con i più grandi è inutile che faccio nomi perché se faccio dei nomi poi scontento altri ma sono passati quasi tutti i ballerini importanti di quel periodo degli anni 90 2000 attraverso i nostri microfoni e le nostre telecamere ma guardate noi abbiamo questa possiamo dire sorta di magia per me è una magia il fatto che chi viene poi su Musicando a Ballon TV alla fine ha avuto fortuna noi portiamo fortuna specie quando regaliamo il medaglione alle gare ai competitori che vengono in esibizione da noi ma poi io ho scoperto delle statistiche tutti quelli che vengono a fare qualche esibizione da noi diventano importanti ottengono dei risultati non lo so io l'ho sempre detto noi siamo nati sotto una buona stella che ci guida questa buona stella ci porta fortuna a noi e a voi che partecipate a tutte le nostre idee allora vediamo cortesemente regia se mi spingete il tasto F5 facciamo l'aggiornamento sulla pagina di Facebook ecco se vogliamo rimanere in contatto gruppo pubblico club amici di Musicando su Facebook allora Roberto in treccialaglio il maestro grazie per aver messo mi piace mi è scritto anche vediamo cosa c'è un commento ciao Tony credo che il 29 vero alla gara grazie Roberto ci fa piacere saremo tanti quel giorno ci divertiremo facceli questi due balletti staremo poi alla grande una cosa la devo dire così cominciamo e poi salutiamo Giuliano che ha messo sul mio profilo il mi piace se avete piacere che io vi saluti alla radio anche Tini ciao Stefano e cliccate i banner che sono pubblicati su Facebook con il mio profilo Tony Mantineo oppure nel club amici di Musicando e quindi per torniamo a quanto ho esposto nella prima parte della pubblicità parlandovi delle figure di quello che riguarda il ballo sportivo poi dovremmo parlare dei giudici di gara ma qui avremo un capitolo molto più impegnativo poi dobbiamo parlare di altre situazioni di contorno di una competizione quindi piano piano insomma cercheremo di parlare di fare avvicinare le persone soprattutto mi rivolgo ai giovani che considerano questo tipo di ballo ballo per adulti diciamo la verità lo considero balli per vecchi perché io vado a parlare con i miei nipoti che sono giovanissimi vanno a fare altri sport vanno a fare la danza moderna chi fa pattinaggio eccetera quando io ho detto vieni con il tuo zio a vedere le gare li ho portati una volta ma io mi annoio vedi questi che ballano che fanno la stessa cosa che girano cioè i ragazzi i giovanissimi quelli di 5, 6, 7 anni che li porti a ballare di primo acchitto vedono questi ballerini così con questi lustrini questi abiti ma poi per loro non riescono a capire le figurazioni quando girano poi 8 coppie tutte insieme che girano e quindi loro che sono piccolini sono un po' frastornati da questo movimento per cui obbligatoriamente io ho visto che è un problema psicologico si dirigono a praticare altro tipo di balli di discipline di cose più dinamiche è chiaro se sentono Fabio Rovazzi le canzoni di Fabio Rovazzi è chiaro che gli devi dare un prodotto di quel tipo là ai giovanissimi per cui è qui che le federazioni a mio avviso hanno sbagliato hanno sbagliato nel non trasmettere magari questa danza sportiva a questi giovanissimi in un modo più vicino al loro intendimento e non è facile questo certo me ne rendo conto ma questo lo paghiamo perché non abbiamo più i vivai io ricordo agli anni 80-90 nel mio locale poi quando abbiamo aperto Telesimpati andavo a fare il telecronista nelle gare di ballo e la fase antimeridiana delle competizioni durante la sfilata d'inizio il cerimoniale di apertura tutto il palazzetto era gremito di giovanissima io ho le immagini su Telesimpati non mi potete smentire allora quello che noi ci chiediamo ma tutti questi bambini questi giovani dove sono andati a finire che oggi dovrebbero avere più o meno 40 anni 40-45 anni 40 anni più o meno cosa fanno adesso visto che nelle piste già si fa la finale a 3 la finale a 4 la finale se si fa una finale a 6 in alcune gare è veramente oro purtroppo paghiamo questo ma io ve lo dico dall'esperienza che ho nella mia famiglia perché con i fratelli con i cugini hanno tutti i bambini cerchiamo in qualche modo che vedano questo zio che parla di ballo che sta in televisione che va a fare le gare di ballo e non si avvicinano perché non lo ritengono dinamico è un problema è un problema per la danza sportiva ora ecco bisogna trovare insieme delle soluzioni invece come dico io di farci la guerra fra federazioni fra maestri fra ballerini io ballo meglio di te tu c'è il diploma tu non ce l'hai tu ce l'hai io ce ne ho 4 tu ce ne hai 10 cerchiamo di portare questi futuri giovani come bagaglio della danza sportiva ecco le mie proposte sono costruttive ma che provengono da una esperienza di lavoro di comunicatore specializzato del settore io credo che pochi come me che da 20 anni fanno questo lavoro di promozione del ballo di essere un operatore del ballo nell'onda della comunicazione credo di saperne più io magari del semplice maestro che sta tutte le settimane chiuso dentro la sua palestra a insegnare ai suoi adepti ora noi che giriamo che andiamo in giro per l'Italia Palazzetti Benevento sentiamo le opinioni di questo e di quello crediamo di avere una mente più aperta e soprattutto maggiori informazioni sulle problematiche del problema e poi colore che ascoltano ballo in tv ballo e radio credo che siete degli ascoltatori fortunati c'è qualcuno che anticipatamente prima che gli eventi del ballo accadono già vi informa quante volte io a Telesimpati vent'anni fa vi informai guardate signori stanno arrivando i balli di gruppo i balli di coppia moriranno no ma che dici ma siete pazzi ma il ballo di coppia non morirà mai guardate che sta cambiando noi abbiamo già il sentore quindi già abbiamo creato la squadra animatori vi ricordate Marco Anzellini gli altri venivano con le telecamere dietro a noi col microfono nelle sale da ballo tutti i sabati a promuovere i balli di gruppo l'abbiamo distrutto noi Antonio Caporale piace la mia foto ciao Antonio salutoni grazie musicista Antonio sono a fisarmonica ciao Antonio grazie del click che mi hai messo adesso ecco man mano mettete click così vi saluto in diretta segno evidente che mi state ascoltando allora stavo dicendo quindi io vi ho sempre informato anticipatamente di quello che accade guardate che sta calando il ballo di gruppo anche nella capitale guardate cercate di creare nelle vostre scuole due filoni una serie di allievi gruppo del sabato sera e gruppo delle gare oggi la salvezza per una scuola di ballo amici mestri se mi ascoltate la salvezza andare a fare le gare perché i vostri ballerini che specialmente sono donne donne adulte intorno dai 40 in su poi alla fine dopo un po' si diventano amici della vostra scuola però dopo un po' vi lasciano perché i balli li sanno tutti il ballo di turno amami amami se lo vanno a imparare nella sala di turno dove c'è l'animatore che fa animazione e quindi viene a perdersi poi l'interesse per la vostra scuola l'unica salvezza per voi amici maestri insegnanti di ballo è quello di creare nella vostra scuola quelli del sabato sera che non andranno mai a fare le gare che però avranno come specchietto coloro che ci vanno quindi il gruppo di agonisti che magari ogni una volta al mese due volte al mese quando sarà vanno da qualche parte a conquistare un pezzo di latta o un pezzo di carta perché adesso danno anche i pezzi di carta come premi e quindi questo è importante avere un obiettivo sportivo di andare a conseguire un pezzo di latta da qualche parte oppure anche sarevi ultimo in un torneo però tu ci hai provato perché poi qui devo aprire anche un'altra parentesi ci sono delle scuole che magari non si piazzano in certi board in certe federazioni arrivano quarti o quinti e non ci vanno più perché si sentono scarsi rispetto a chi arriva prima ma non è così guardate arrivare ultimi in un qualsiasi torneo alla FID alla FIDTD alla FIB tanto siamo tutti amici ci conosciamo tutti non mi li posso fare siete passati tutti su TeleSIMP tutti e quindi nel mio programma quindi vi posso nominare perché ho tutte le immagini di tutti gli enti dei vostri eventi passati di vent'anni fa e fino a anche recentemente e quindi voi in questi arrivare a partecipare anche arrivando ultimi siete sempre primi di tanti altri che se ne stanno a casa è importante allora cominciamo a fare il parallelismo col calcio che poi apriremo nell'altra parte del ballo in tv e quindi che ne so ieri c'è stato il campionato il Crotone che è l'ultimo in classifica in Serie A ma che deve fare devono prendere le borse e tornarsene a Crotone e lasciare perdere il campionato no sei sempre arrivato ventesimo nella Serie A oh signori io mi ricordo quando presentavo i competitori presentavo delle esibizioni che organizzavo con la televisione col ballo in tv spesso i maestri o i competitori stessi mi portavano un foglietto di carta con scritto tutto il loro curriculum io tante volte mi venivano dei dubbi quando qualche coppia che io presentavo in televisione le chiamavo in televisione ospiti nel loro curriculum sedicesimi ad Alassio dodicesimi a San Benedetto addirittura loro si freggiavano di un dodicesimo di un sedicesimo posto quando dicevo insomma finché siamo nei primi cinque ti puoi freggiare ma che tu mi dici sei arrivato sedicesimo ad Alassio dodicesimo a San Benedetto per dire che alla fine ci tenevano ci tenevano ed è importante perché si sei sedicesimo ma quanti ce n'è dal sedicesimo al centesimo nella ranking nella graduatoria ora io credo che entrare in una graduatoria arrivare anche ultimi in un qualsivoglia campionato di ballo è fondamentale non è che siete scarsi rispetto al primo siete magari stati valutati un po' meno a volte anche per sfortuna perché magari c'è un giudice che vede una cosa e l'altro no dovete anche far conto con la componente della giornata dovete far conto con quello che accade quel giorno in quella gara grazie alla presenza di quei giudici l'imponderabilità nella gara di ballo va messa magari nel vostro gruppo avete fatto un fuorisincro magari non avete fatto una coreografia con una disposizione perfetta ma può succedere come il calciatore che prende il palo oppure il calciatore che sbaglia un rigore ieri il calciatore della Lazio ha sbagliato un rigore ha preso la traversa quello fa parte del gioco quindi fa parte anche del gioco l'errore tecnico nella gara di ballo il fuorisincro il fuoritempo importante importante il fuoritempo che il fuorisincro importante ballare a tempo abbiamo una componente musicale da rispettare quindi una coreografia scritta da rispettare ora questi sono come possiamo dire quei consigli che come trasmissione dedicata al ballo crediamo di farlo solo noi da vent'anni ora quindi siete fortunati se voi ogni settimana ci seguite e c'è un Tony Mantineo che vi dice guardate che sta arrivando il Somblera Fitness guardate che la disciplina del Somblera Fitness come i balli di gruppo è nata al sud e si sta trasferendo anche qui nella capitale guardate se volete diventare istruttori di Somblera Fitness è una vostra occasione professionale io ho incontrato una persona che ballava qualche settimana fa gli ho proposto un certo lavoro in federazione perché la riteneva all'altezza non mi ha risposto mi ha detto no molte persone per esempio neanche riescono a comprendere quali possono essere i propri sbocchi professionali o delle proposte che ti fanno magari alcuni enti o alcuni tecnici federali no cade anche questo nel ballo quindi bisogna a mio avviso cercare di informarsi perché oggi l'informazione potete sapere e quindi se c'è qualcuno come me che da 20 anni gratuitamente vi dà delle informazioni e vi dice guardate se voi sabato venite alla serata che facciamo a Vignanello vi divertite ma non lo dico per incassare per guadagnare la gettonella perché ormai all'età nostra che abbiamo quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto ormai ci vogliamo divertire sapete come gli anziani che a 70-80 anni prendono una compagna e se ne vanno in crociera vogliono fare quello che non hanno fatto da giovani perché è la vita che ti porta a fare questo e così noi noi attraverso Club Musicando attraverso questa trasmissione abbiamo creato un qualcosa nel trovare quei posti di grande divertimento e consigliarli consigliarli a voi che magari volete trascorrere con noi una serata tutto qui ormai abbiamo già lavorato stiamo aspettando la pensione se ce la danno siamo in quella fascia di esodati tra i 50 e i 65 anni dove siamo in attesa e quindi che cosa possiamo fare se non cercare di divertirci e aspettare quello che ci prospetterà poi questo futuro e allora io credo adesso di cominciare subito a fare altre informazioni visto che siamo arrivati alle 21 e 50 minuti primi tra 10 minuti facciamo un altro blocco pubblicitario così un altro bicchiere d'acqua ma nell'attesa andiamo subito a dare le informazioni sulla gara del 29 visto che Roberto ecco ci stanno chiamando dunque siamo in diretta quindi non possiamo rispondere al telefono adesso chiamateci in un altro in un altro momento grazie allora stavo dicendo che ragazzi prendetemi le telefonate dall'altra parte non me le passate qui poi per la diretta come abbiamo fatto nelle puntate prima di Natale se voi ci mandate un messaggio su Facebook amici di musicando col vostro telefono noi vi richiamiamo facciamo la diretta telefonica con gli addetti ai lavori non stasera perché non abbiamo collegato la diretta abbiamo una postazione nuova spero che mi ascoltate bene perfetto senza ronzio stasera perché durante le feste abbiamo montato una console radiofonica nuova allora adesso parliamo della competizione di ballo del 29 gennaio a Palestrina attenzione a Palestrina ci sono due board che fanno competizioni voi non sbagliatevi quella del salone Rondinella il salone storico che noi chiamiamo Palafibes perché proprio negli anni 2000 proprio qui abbiamo cominciato a fare grandi care con mille persone a portare i balli di gruppo in un certo livello e quindi gran salone Rondinella alle ore 10.30 inizia la competizione per balli in gruppo vi dico subito che la partecipazione a quote popolari solo 6 euro per accedere ragazzi 6 euro siamo andati al bar due amici l'altra sera abbiamo non era di sera si era di sera dopo una serata che prendi cappuccino cornetto cappuccino cornetto abbiamo speso quasi 5 euro solo per due cappuccini e per due cornetti era di notte dopo dopo la serata e allora qui siamo a 6 euro e se partecipa alla gara del ballo no qui insomma solo questo dovrebbe essere un incentivo solamente perché andiamo a vedere cosa fanno questi pazzi che organizzano dal 2000 dal 99 2000 sto gran premio del Lazio che è una cosa molto bella secondo me non tornevo a ranking diamo qualche informazione ai maestri perché durante questi 20 anni sono nate diverse chiamiamole discipline no per quanto riguarda il ballo in coppia c'è chi usa fare gare per stili musicali e io che vengo dal mondo classico come vi ho detto nella prima parte come coreografi che io ho conosciuto coreografi televisivi coreografi di spettacoli teatrali eccetera loro non guardavano quando creavano una coreografia allo stile il brano musicale era solamente di ispirazione poi poteva essere latino poteva essere un ritmo sambato poteva essere un pezzo dance poteva essere una musica senza batteria senza esecuzione ritmica solamente una musica diciamo di violini io ho conosciuto dei coreografi che hanno fatto delle coreografie straordinarie sui sui vediamo un po' scusate un attimo adesso riprendo il discorso Maria Grazia Pastoris mi manda messaggio ciao Tony quest'anno siamo quasi meno sette siamo temperature bassistime guardate l'altra sera a Sutri eravamo a meno 8 ma io stavo meglio a Sutri che qui a Roma la temperatura lì l'aria secca bella pulita invece qui a Roma smog e quant'altro vabbè Maria Grazia ci sta ascoltando grazie allora riprendiamo al discorso quindi i coreografi quelli di un certo tipo di di ballo quelli dei balletti veri e propri che studiano l'accademia loro non guardano lo stile musicale hanno una libera creazione coreografica loro ascoltano un brano gli viene in mente su quel brano cominciano a fantasticare no io qui ci metto le ballerine che si aprono in questo moto poi aiutano poi cominciano a scrivere e nasce la coreografia io vengo da questo mondo qua per cui quando poi nel ballo sportivo ho cominciato a vedere che quello organizzava gare sincrolatin quello faceva samba quello faceva divideva secondo gli stili musicali a me non mi quadrava perché poi il primo pensiero era ma quanto dura una gara che ne so dobbiamo fare tutti i bambini che fanno il sincrolatino poi tutti quelli che fanno un'altra cosa quelli che fanno lo scomposto quelli che fanno un'altra cosa ancora si fa a mezzanotte ora io che vengo dal mondo delle coreografie libere crediamo di aver inventato l'acqua calda abbiamo scoperto l'acqua calda praticamente di fare una gara di coreografie libere io che sono stato a contatto con questi come possiamo dire coreografi teatrali televisivi ne abbiamo parlato di questo io ho detto guardate noi facciamo le gare c'è sto sincrolatino sì si possono pure fare però mi hanno detto la coreografia è libera io vedo già nella mente come deve essere formata la coreografia o ci cerco il brano oppure dal brano io adatto la coreografia semplice da qui e ci è venuta l'idea di fare una gara per coreografie libere quindi il Gran Premio del Lazio è coreografie libere pertanto se voi maestri siete autori perché in questo caso siete proprio come gli autori delle canzoni autori creatori di una coreografia vi prendo i pezzi che vanno sono andati forti negli ultimi mesi quindi Sofia Roma Bangkok prendete quella musica e ci create sopra il balletto è chiaro che dovete rispettare le sequenze i fraseggi i musicali chiara canzone gli stop quando la musica si abbassa pensate cosa devono fare i ballerini e quindi avete un moto libero di costruirci sopra su Sofia una coreografia quindi Sofia fa la gara con un pezzo più sambato più latino più dance perché adesso vi spiego vi dico qual è la dritta il giudice il giudice del Gran Premio del Lazio non vota non vota lo stile della musica se voi fate un latino se voi fate un brano classico se fate un brano sambato vota se voi ballate bene o non ballate bene poi il gruppo si può aprire si può scomporre può essere a moduli a piccoli moduli a modulo unico in maniera come lo chiamate voi per farmi capire sincronizzato è la stessa cosa l'importante è che balli bene che il corpo sia sinuoso che i movimenti siano in sincronia che una presa venga fatta bene se c'è un'elevazione non deve essere goffa perché a volte quante volte mi è capitato nei palazzetti e se vede in elevazione qualcuno che prende una ballerina la tira su per aria e tutto il palazzetto applaude perché ha fatto una bella cosa poi magari vai a vedere io quante volte mi è capitato quando giudice di cara ho visto una cosa del genere ma quell'elevazione tecnicamente è stata goffa e io gli ho messo un voto basso perché se vede tu mi fai l'elevazione ti applaudo pure sei stato bravo però me la devi fare bene me la devi fare a tempo e non me la devi fare in maniera goffa se no il palazzetto applaude ma io ne metto due è semplice cioè non fa una piega ora se il maestro di ballo di questo ballo così sportivo che molti chiamano coreografico ma qui fate un errore veramente grosso a livello di di italiano a livello di di terminologia perché tutto è coreografia anche voi amici messi lo sapete meglio di me si balla anche da fermi no dice come si balla da studiare i libri si balla da fermi quando c'è la E E1 si balla anche la E di congiuzione allora anche stando fermi state facendo una coreografia state svolgendo una coreografia anche lo stop fa parte della coreografia ora la coreografia vi rendete conto che è libera quindi voi su Roma Bangkok su Sofia ci mettete sui passi che volete le sequenze le figurazioni che volete basti che rispettino la metrica la dinamica musicale basti che rispettino soprattutto il tempo ora questa è la prima cosa che il maestro che porta i suoi allievi al Gran Pieve del Lazio deve comprendere che attraverso criteri con i quali viene giudicato tempo sincronia coreografia e stile si può giudicare qualsiasi cosa che si muova a tempo anche un oggetto anche un pupazzo che tu gli dai la corda e lo fai lo fai ballare quei giocattoli che ballano dandogli la corda se quello balla a tempo non avrà tempo sincronia coreografia e stile ora in questo Gran Premio del Lazio si possono guadagnare andando in pista 120 punti 6 punti i giudici di età fino a 6 con i mezzi punti quindi 6 per 5 sono 30 3 per 5 siamo 120 punti per cui a 120 punti ci può arrivare chiunque sia uno che ti balla un sambato un gruppo che magari ti balla un fitness anche per modo di dire o chi ti balla un ballo un ballo latino perché di questi stili vengono guardati da parte del giudice il tempo a sincronia a tecnica coreografica e lo stile cos'è la tecnica coreografica il rispetto dei fraseggi vedere se in quel determinato fraseggio tu riesci a compiere quei determinati movimenti se il tuo corpo è sinuoso verrai guardato nella casella stile quindi questo è molto importante per cui qui vince chi balla bene il latino il sincronizzato perché tutto è coreografia quindi partecipando il 29 al Gran Premio del Lazio partecipate a una gara di coreografie libere quindi quello che è voi avete un'idea musicale un'idea che vi nasce su una musica e potete svilupparla e portarla in gara quindi qui c'è poi un inquadramento secondo le classi di età che vi do il quadro subito lo vado a leggere nel sito ufficiale eccolo qui le categorie di età sono under 7 under 10 under 15 20 30 40 50 under 60 over 60 quindi vi potete inquadrare in una di queste categorie poi una cosa bella è che si fanno due balli dunque due balli due balli perché come accade nel calcio partita di andata e partita di ritorno se una squadra di calcio sbaglia la partita di andata e perde si può rifare alla partita di ritorno e non è una cosa sportiva bella questa tu fai un balletto e magari prendi 90 punti i giudici ti danno 90 poi vai il secondo ballo che puoi fare o lo stesso ballo lo puoi ripetere la stessa canzone oppure ne presenti un'altra nuova che tu hai studiato in palestra la ripresenti in gara e magari ottieni 100 punti e quindi tu avrai 100 dopo 90 prima avrai 190 punti in total di 190 punti che tu metterai nella tua ranking ora tanti maestri che dicono eh no ma io non vengo a questa gara vengo a quell'altra adesso non non voglio venire non mi sento non siamo preparati ora per poter avere diciamo un quadro di quello che è il Gran Piemia del Lazio bisogna solo venire e ballare fare la cosa più semplice senza fare calcoli perché è importante prendere i primi punti per essere già in classifica un conto è prendere anche se pochi anche se arrivi ultimo prendi 80 punti però già li hai messi nel cassetto tu alla prossima potrai migliorare e salire di classifica arrivare qui al Gran Piemia del Lazio nei primi 5 vuol dire che sei bravo ma anche se arrivi settimo ottavo vuol dire che sei sei stato bravo perché tu passi in una serie di partite davanti ai giudici ora un'altra cosa che io non mi spiego come fanno molti a decretare un campione di ballo nazionale spesso dopo che ha ballato solamente un minuto e mezzo tu in un minuto e mezzo come puoi decretare un campione nazionale e dare un titolo così grosso dopo che ha ballato un minuto e mezzo e solamente una volta questa è una domanda la mia poi tutto si può fare nella vita però è una domanda io ho visto che in altri sport a tutti gli sportivi viene dato un secondo lancio un secondo tiro una partita di ritorno una seconda opportunità anche nella corsa ai 100 metri ai 200 metri si fanno più corse si fanno più tornate anche quando si fanno i famosi meeting di atletica leggera che sono magari svolti in una giornata ma i competitori hanno più lanci più opportunità di migliorare la loro prestazione precedente solo nel ballo no però questo è stato messo a zero dall'anno 99 dal Gran Premio del Lazio che ha questa regola che c'è la possibilità di ripetere la propria prova quindi altamente sportiva ora chi riesce a comprendere questo e sono tanti per fortuna sono tanti maestri che hanno compreso queste idee molti sono veramente appassionati del Gran Premio del Lazio ci sono club che ci seguono pensate dall'anno 2000 sono talmente fedeli che si trovano talmente bene questa è una gara veramente sportiva abbiamo avuto delle discussioni con tanti colleghi che dicono eh no ma lì è veramente sportivo perché c'è una classifica tu sei primo tu sei secondo sei terzo tu ti puoi confrontare con eh l'altro club con la partita perché ci sono sette partite durante l'anno sette 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 gare per cui se ti è andata male una ti puoi rifare a quell'altra e questa è la bellezza del che dà poi l'incertezza fino alla fine del torneo no che tutti possono vincere e l'errore che fanno molti maestri vabbè ma mo c'è vado una sola volta non c'è vado vado a quell'altra vado a marzo ragazzi quello che non avete capito anche se voi il 29 venite a fare il semplice alligalli no che prendete un pezzo di alligalli di qualsivoglia brano musicale che ci sono in giro e voi lo ballate bene potete prendere 120 punti solo ballando bene in sincronia tutti perfetti con movimenti sinuosi a tempo con un semplice alligalli perché il giudice ricara non guarda se voi fate il balletto nuovo di turno se voi ci fate amami amami che è uscito adesso se ci fate sofia al giudice non importa che tu fai il pezzo nuovo importa vedere che tu balli bene lui deve votare che tu balli bene che tu fai poi attenzione non viene votata la coreografia bella per cui bisogna fare il sincronizzato non può stare con un gruppo che si scompone il giudice non guarda la bellezza altrimenti facciamo una cosa di guare guarda se tu quel ballo quella coreografia l'hai ballata bene no se è bello il brano musicale se è bella la coreografia perché c'hai la ballerina che qualcuno te la solleva in aria quello può essere a ciliegina sulla torta non di più anzi è pure pericoloso perché se tu quell'elevazione non la fai bene ti penalizza il gruppo è meglio che fai un semplice alligalli ballato bene che ti guadagni 120 punti e vai primo piuttosto che vuoi presentare una cosa difficile che la fai male no? questo questo è come funziona la gara di ballo questi aspetti sono buoni sia dal Gran Primero e dal Lazio ma sono consigli che credo possano esservi utili anche se andate a fare le gare in feed se da un'altra parte o da un'altra parte ancora e consiglio che vi do io chiudo e poi facciamo breve comunicato pubblicitario è quello di girare i boa delle competizioni io non vi dico eh venite da noi venite nel 29 perché noi qua noi siamo meglio no voi dovete fare esperienza una volta andate lì una volta andate da quello una volta venite da noi poi se magari vi trovate meglio da uno andate più da quell'altro se vi trovate bene da noi verrete più da noi ma senza però staticizzare quello che è eh la partecipazione perché poi ci vuole pure quell'emotività che ti dà eh una gara diversa è come andare a ballare sempre nella stessa balera dopo un mese tutto a noi devi cambiare balera per vedere che c'è questo noi lo capiamo io lo comprendo non si può venire al Gran Premio del Lazio sempre oppure te le puoi fare tutte e poi contemporaneamente te ne vai anche da un'altra parte perché bisogna fare esperienza quante volte io dico signori noi giriamo ci sono 50 sale da ballo intorno a Roma ma perché non le girate che vi fate un'esperienza di altre sale da ballo credo che questo sia sia importante ok allora siamo pronti diamo la linea al nostro tecnico del suono dopo un colpo di tosse un bicchiere d'acqua quindi ci sentiamo tra poco dopo il blocco pubblicitario a tra poco segui le nostre attività multimediali anche su Facebook iscriviti al gruppo Amici di Musicando un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione ti aspettiamo riprende un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricco e appassionante con cantando ballando e musicando il ballo in tv un'ampia panoramica sul ballo la danza e lo spettacolo con notizie interviste servizi per sale da ballo competizioni feste di piazza musica orchestre e lezioni di ballo il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica inimitabile da ben 18 anni cantando ballando e musicando il ballo in tv seguila in rete quando l'arte del ballo si trasforma magicamente in spettacolo hai trovato la FIBES FIBES Federazione Italiana Ballo e Spettacolo ente nazionale di promozione sociale e formazione FIBES affiliazione di circoli sale da ballo scuole e club di ogni ordine e grado con copertura assicurativa globale inoltre organizzazione di competizioni a tutti i livelli ed eventi nazionali ed internazionali entra anche tu nella FIBES informazioni alla sede federale di Roma al numero 348 7309 398 oppure FIBES Roma chiocciolalibero.it FIBES quando l'arte del ballo diventa spettacolo la tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienze e professionalità nel campo della comunicazione affida la pubblicità del tuo locale a Musicando e il ballo in tv per la pubblicità su Radio Stab chiama il numero 340 75 59 392 Cantando ballando e musicando il ballo in radio bene torniamo in diretta qui da Stab Radio in replica su RDA Radio 1 il giovedì sera alle ore 21 poi vediamo se giovedì sera alle 22 penso di sì avremo torneremo con il ballo in tv che poi potete seguire su Facebook gruppo pubblico amici di Musicando avremo questa bella puntata faremo vedere qualche gara delle ultime dove siamo stati ospiti faremo vedere poi anche dei saggi di Natale di alcuni club esibizioni insomma poi cercheremo anche di darvi un'informazione visiva perché qui ci sentiamo solo in voce andiamo avanti e continuiamo a dare delle informazioni a coloro che vogliono partecipare a questo torneo che è iniziato a ottobre e andrà avanti fino a luglio del GP del Lazio siamo alla terza gara nulla è perduto si può partecipare in gruppo in coppia diamo qualche informazione nel settore ballettistica cominciamo a vedere che per tutti coloro che svolgono diversi tipi di balli in gruppo ci sono ben questa volta 14 inquadramenti 14 categorie alla fine e quindi credo che sia importante adesso ve le dico tutte prima categoria due balletti in coreografia libera classe unica età variegate abbiamo scoperto che ci sono scuole di ballo che non hanno più ballerini della stessa età allora tanti telefonano oppure vengono lì durante la gara mi mettono in difficoltà mi dicono noi non abbiamo 10 persone tutte della stessa età che facciamo? e ho fatto semplice c'è una categoria come la squadra di calcio avete visto Totti nella Roma c'ha 40 anni i giovani brasiliani c'è una 18 c'è una 20 c'è una 22 e stanno tutti insieme nella stessa squadra perché nel ballo non si può fare? mi ricollego alla mia carriera artistica quando io stavo nei teatri che vi ho detto fin dall'inizio del programma il coreografo e le sue ballerine mica ce le aveva tutte della stessa età c'aveva quelle più giovani e c'aveva anche qualcuna meno giovane non è che lui faceva il balletto nel teatro o il balletto televisivo lo faceva con ballerine tutta della stessa età più o meno ricordo un balletto che c'era una differenza tra le ballerine anche dei 10 anni e quella dei 10 anni ballava bene anche con quella che aveva 10 anni di meno faceva un'altra cosa poi la coreografia era molto articolata era scomposta i balletti televisivi hanno anche effetti scenici e quindi non si capisce perché nelle gare di ballo di gruppo non si possono fare i gruppi con età mista ma perché no c'è il coreografo quindi messo dalla scuola porta in gara il meglio che ha della sua scuola come il calcio Spalletti mette giovani meno giovani fa la squadra e fa il campionato di serie A fa la coppa la coppa UEFA la fa con i giovanetti e la fa con i giocatori più esperti perché questo è lo sport poi abbiamo quella classica che vi ho detto due balletti coreografia libera per classi di età suddivise già ve l'ho detto poi ci sono club che dicono ma io voglio fare tre balli perfetto c'è la gara con tre balli in coreografia libera anche qui classi di età miste poi c'è un altro settore che è particolare quello della danza moderna della quarta categoria danza moderna e sottodiscipline un balletto in coreografia libera quindi funky pop lyrical tutte le categorie del moderno più che categorie sono stili e sottodiscipline la quinta categoria è il festival rueda ci sono club che fanno il salto che fanno la classica rueda e quindi si può fare la gara solamente con la rueda o in salsa oppure te la puoi fare anche in latino come ti pare l'importante è che fai un balletto in rueda questa categoria è fantastica e dal 2000 che ce l'abbiamo si chiama l'audizione un balletto o due balletti in coreografia libera ora una volta quando io con la televisione con musicando andavo in certi palazzetti mi ricordo ancora la voce della speaker che disse i signori giudici vanno a pranzo il gruppo tot fa l'esibizione siamo in piazza fai l'esibizione quindi questi dopo che hanno pagato un'iscrizione vanno a fare l'esibizione ho detto perché allora non si fa l'audizione tu non c'è competizione con un'altra scuola o un altro gruppo io ti giudico uguale ti do un punteggio e ti do il premio e quello che tu quando da ballerino nel mio settore volevi essere assunto dal coreografo per quel balletto facevi l'audizione si chiamava il coreografo li chiamava li guardava facevi un balletto davanti lui ti giudicava e ti diceva si ti prendo no non ti prendo non mi piace cadevano tutte le tue aspirazioni stessa cosa quindi ci siamo inventati che da noi c'è sempre competizione perché dopo tu con l'audizione anche se balli per te c'è il tuo punteggio la tua coppa eccetera la vai a confrontare se vuoi con le classifiche degli altri guarda se io ero in gara con questi qui arrivavo tot quindi è sempre gara alla fine e questa è una cosa bella oppure ci sono maestri o scuole che dicono ah ma che c'è quel maestro io la gara con quello non la faccio fatti l'audizione allora vieni partecipiti prendi i punti per conto tuo tu stai nella categoria audizione perché purtroppo accade anche questo se c'è quello io non vengo purtroppo il ballo è così è come se la Roma dice beh tanto gioca la Juventus io non ci vado a fare il campionato di Serie A c'è la Juventus quello non mi piace non c'è gioco cioè nel ballo arriviamo a questo settima categoria è fantastica il Festival dei Ricordi scusate un balletto in coreografia libera però eh qui ci divertiamo con brani dal 2000 al 2011 qui dovete prendere qualsiasi canzone di successo dall'anno 2000 al 2011 si fa una gara ranking solo con i brani del passato Festival dei Ricordi questo serve a tramandare alle generazioni future quello che è stata la storia delle gare dei balli di gruppo e poi anche perché eh spesso vi è andata ad affannare ai coreografie nuove ai pezzi nuovi che dopo due mesi non si ballano più invece questi pezzi dei dieci anni fa che hanno fatto la storia sono ancora nuovi specie per i giovanissimi che all'epoca non erano nati e quindi molti partecipano c'è anche un albororo di questo Festival dei Ricordi l'ottava categoria del Gran Piemio del Lazio speciale è il Festival APE autori produttori editori eh abbiamo scoperto che ci sono orchestre cantanti artisti indipendenti che creano brani balli di gruppo ballabili coreografici chiamateli come volete musica da ballo e spesso li danno a delle scuole di ballo per farci le coreografie allora noi già da anni facevamo dei festival così dove si premiava l'autore l'orchestra e la scuola di ballo che faceva la coreografia quindi so che ci sono nella zona di Latina di Aprilia tanti cantanti che creano musiche così dateli alle vostre scuole e portateli anche in gara perché c'è una vetrina per voi facciamo un clip televisivo vediamo la promozione del brano lo facciamo conoscere lo promuoviamo nelle sale poi se vince anche la gara meglio ancora pure se arriva ultimo meglio ancora è una vetrina insomma basta che partecipate la nonna categoria noi la chiamiamo sportiva perché c'è la formazione obbligatoria di 12 elementi perché cosa accade nel ballo di gruppo che a volte squadre di 10 ballerini fanno la gara con squadre di 20 ballerini ciò vi sembra normale che nel calcio che ne so a Juventus gioca con 12 e la Roma con 6 non è possibile no? ma nel ballo queste sono le incongruenze quindi noi per chi vuole fare la gara tutti e 12 formazioni di 12 poi al secondo ballo puoi cambiare la formazione come nel calcio ebbene c'è questa possibilità quindi di Boccio va via dopo un'ora e mezza con la categoria sportiva decima scusate decima categoria campionato centri sociali anziani campionato dei centri anziani sono 4 anni che si svolge questo campionato hanno vinto diversi centri anziani ha vinto Vitini ha vinto Montarelli di Aprilia ha vinto Campoleone ha vinto centri anziani della Romanina hanno vinto in parecchi questo campionato per cui se c'è qualche maestro che lavora nei centri anziani vuole fare una squadra e far vincere i propri centri anziani dargli visibilità soddisfazione a questi presidenti poverini che sono sempre tartassati lì dai soci insomma cercate di portare anche questi centri anziani in evidenza potete partecipare alla gara dei CSA quindi fate due balletti in coreografia libera l'undicesima categoria è la somblera fitness quindi tutte le discipline di zumba fitness e attività similari fate la gara nella categoria somblera scusate dodicesima categoria musical qui potete fare un piccolo musical di 5 minuti scusate ho bisogno di fermarmi un attimo con la trasmissione vi mando il blocco pubblicitario così vediamo se riesco a togliere questo problema linea alla regia prego mi 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 Grazie a tutti. 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 lui in palestra ed è lui che la deve dirigere se vuole da bordo pista, i ragazzi si sentono più tranquilli, se non vuole ballare nel gruppo vedono un messo da fuori che gli dà qualche indicazione, è un gioco di squadra, è uno sport, perché non ci può stare il maestro da fuori che dà le indicazioni, avete visto gli allenatori di calcio, allora se il ballo deve essere sportivo bisogna applicare regole sportive, quindi a qualsiasi idea, tanto lo fanno per i piccoli e tanti, abbiamo scoperto una cosa, che molti maestri non si avvalgono di questa bella cosa, perché si sentono come se sminuiscono il loro gruppo, quelli sono grandi, hanno bisogno quello che gli dà, certo, allora Totti che ha 40 anni, che ha bisogno, l'allenatore Spalletti che gli dice la posizione dove si deve mettere, quello che deve fare, se tornare indietro, se stare sulla destra, sulla fascia, più al centro, Totti è un grande campione, lo sa dove si deve posizionare nel campo, però deve seguire l'allenatore che vuole che gli svolge in campo un certo lavoro, e così il coreografo da fuori vuole che il suo ballerino, mentre fa la gara che si sta conquistando quel pezzo di latta nel gruppo, i punti di quella partita, di quella gara di ballo, lui deve contribuire, deve dargli le indicazioni, cioè cosa c'è di male, siccome io lo so nel ballo c'è questa presunzione di essere tutti bravi, di non volersi sminuire davanti ad un altro collega, ad un altro maestro, uno si sente psicologicamente in difficoltà, se ai suoi allievi gli dà delle indicazioni, perché i suoi allievi quel club non sono bravi, non è così, guardate se finisce mai da imparare, per cui se molti maestri riusciranno a comprendere questo e farete un passo avanti, beh queste per questa sera sono le nozioni per quanto riguarda le gare di ballo, poi siamo a disposizione per qualsiasi altro informazione e delucidazione, beh posso dire che poi pomeriggio intorno alle 14.30 cominceranno le gare per balli in coppia e anche qui tutte le classi, discipline e categorie, dal tango argentino, liscio, standard e latini, quindi vi potete divertire. Ho tanti ricordi, eh ma dura poco la gara, vuol dire io perché dura poco, perché non facciamo il sincrollati, perché non facciamo i sambati, perché non facciamo il coreografico, perché non facciamo, facciamo la gara di coreografie libere, quindi se fa presto, se fa prima, è strutturato in una maniera veloce il Gran Premio del Lazio in modo che pomeriggio ce ne possiamo andare a casa, al centro commerciale, facciamo presto. Quindi anche questa penso che sia una bella cosa, perché mi è capitato magari, che ne so, dei gruppi che si presentano al mattino, stanno tutti i giorni lì senza fare niente e poi ballano alle 4, perché devono aspettare che ballano tutti gli altri. A Gran Premio del Lazio questo non accade, perché alternativamente, c'è un'altra bella cosa che voglio spiegare ai maestri, balla un gruppo di piccoli e un gruppo di adulti, alternativamente, sapete a cosa serve? A socializzare i grandi con i piccoli, perché mi sono accorto che in alcune gare gli adulti ballano col palazzetto vuoto, ballano da soli, perché se fanno ballare per categorie, prima i più piccoli, poi i più grandicelli, poi i più grandicelli ancora, e gli adulti dopo che hanno pagato un'iscrizione ballano da soli, che sono rimasti pochi in certe gare, nel palazzetto e questo non è bello. Quindi anche per questione di amalgamazione fra le fasce di età, quindi è bello che l'adulto sta col più giovane, questa è la socializzazione del ballo, facciamo ballare alternativamente un gruppo di piccoli e un gruppo di grandi. Ovviamente i piccoli si premiano prima e vanno via prima, però poi in questo modo la gara è bella, perché tutti si sentono partecipi di un contesto e questo è il successo che abbiamo, che abbiamo e che a quale a me fa piacere partecipare quando mi chiamano per far questo, io corro proprio perché c'è questa bellezza. Allora quindi invitiamo tutti i maestri che vogliono partecipare il 29 a palestrina, nei posti stanno cominciando a ridursi, quindi fate in fretta a prenotare perché se pensa stavolta le fa il pieno, per cui andate sul sito fibesroma.altervista.org e trovate tutte le informazioni. Per stasera con il ballo e tutto cerchiamo di cambiare argomento. Andiamo su Facebook, vediamo gli amici che ci hanno contattato questa sera, lo faccio in diretta questa sera, grazie per aver messo una bella postazione dove mi posso muovere con i mezzi multimediali, vediamo qui dobbiamo mettere la password, mi sono imparato quasi, sto diventando tecnologico anch'io, libero.it, mettiamo la password adesso, pronti e si apre la pagina, che bella, che meraviglia, voi ragazzi siamo rapidi, quanto ci avete messo di memoria qui? Allora, vediamo chi ci ha salutato, Andrea Di Saverio, Antonio Caporale, grazie, Anselmo, Anselmo Pompini, grazie, ci state salutando tutti, vediamo se qualcuno ha messo il clic di mi piace, poi cambiamo argomento e chiudiamo la puntata di stasera, ho 26 contatti, tantissimi eh, maestro di ballo, amici, eh, ci siete tutti stasera, siete quasi tutti gli affeccionados del club musicando il ballo in TV, vediamo sul mio profilo se qualcuno ci ha cliccato, dice, mi dico Tony, sei un grande, a 360 gradi, sei un bravo presentatore, vabbè, grazie, opinionista, musicista, non è un complimento, ma è la verità, chi riconosce lo sa, vorrei tanto vederti in Rai, ragazzi, io ho rinunciato di andare sui nazionali, non lo sapete perché, perché, vi dico, sui nazionali devi lavorare col copione, devi dire quello che dice la produzione, io ho lavorato, devi fare quello che dice il regista, non puoi aggiungere una parola di più o di meno, e io in queste condizioni ho lasciato da andare a lavorare in questi posti che dici tu Giuliano, per cui faccio il cane sciolto nelle emittenti private da sempre, da 30 anni, e quindi va bene lo stesso, guardate, non c'è più gratificazione della propria libertà di esprimersi, guardate, certo lo faccio pure, vado pure in certi posti a presentare delle serate dove mi danno il copione, e purtroppo io lì mi sento come se indosso un paio di scarpe strette, come se indosso un abito stretto, e però lo faccio perché lo devo fare tante volte, tante volte bisogna farlo, per la pagnotta bisogna farlo e si fa, però quando posso, grazie a Stapp Radio che è una radio libera, riusciamo a parlare bene, ok, allora adesso vediamo un po', qui abbiamo chiuso con Facebook, apriamo un'altra pagina, vogliamo parlare di calcio, vogliamo parlare di Roma, così vediamo, ci confrontiamo con Roberto De Angelis e Stefanotini, vai, vai, buongiorno Roma, perché parliamo della Roma, che dire, questa era la mia vecchia sigla radiofonica di quando trasmettevo in alcune radio, in alcuni emittenti, avevo un programma che si chiamava così, io ho messo Buongiorno Roma per parlare un po' della nostra capitale, dei problemi, si parla tanto di Roma che ha problemi nello sport, costruzione negli stadi, e io lancio la mia provocazione, si parla tanto di cubature del nuovo stadio a Tor di Valle, si parla tanto che lo stadio deve essere multimediale, polifunzionale, e allora no? Amici della Roma, amici americani, perché nel vostro stadio della Roma non ci fate il palazzetto del ballo, non prendete un tot di metri quadrati e ci facciamo lo stadio della Roma e il palazzetto del ballo, il palaballo, non il paladanza, il palaballo per fare le gare di danza sportiva, che lo date poi in affitto a chi deve fare le gare di danza sportiva, si fanno degli accordi con coni o gli enti di promozione sportiva, lo si dà alla cittadinanza, perché si parla di tutti gli sport, io quando sento i politici dire eh li apriremo l'impianto sportivo, avremo campi da tennis, campi di pattinaggio, campi, però sti palaballo, eppure sono tantissimi coloro che praticano il ballo sportivo, solo la federazione di riferimento ne ha 50.000 di tesserati, a Fibres ce ne ha un'altra di 30.000, quello ce ne ha un'altra di 5.000, cioè siamo tanti no? A 100.000 ci arriviamo praticanti di ballo sportivo, una volta eravamo molti di più, allora perché queste amministrazioni politiche, in questi centri sportivi polifunzionali dove c'è tutto, c'è dalla rotella alle bocce, che non ci gioca più nessuna bocce, e non c'è il palaballo, il palaballo gestito con enti di promozione sportiva, con le federazioni nazionali, per tutti, ma attenzione che non deve essere costruito dal privato per darlo solo al privato di turno, sport deve tornare a mio avviso, essere pubblico, noi che pratichiamo lo sport, se ci mettiamo in cabina elettorale siamo un buon partito di voti e quindi ci devono tenere in considerazione, quante volte quando eravamo giovani vent'anni fa abbiamo pensato di fare un partito degli sportivi, del ballo, per cercare di tutelare quello che sono un po' una piccola lobby, no? Tra virgolette, scherziamo, però è così alla fine c'è ballenata anche in testa di raccogliere un qualche cosa, qualche firma per farlo sto palaballo a Roma, no? Ma per forza Black Bull c'è deve essere il palaballo. Il palaballo è importante perché ogni domenica, per esempio so che domenica 29, quando facciamo la gara noi, ci stanno altre gare del ballo contemporanea, non si sa perché fanno tutto il 29, contenti voi? E allora se ci sono già tre enti che il 29 gennaio fanno tre gare, allora vuol dire che serve un palaballo perché noi dove ci dobbiamo appoggiare? Nelle grandi saloni, grandi sale da ballo e oppure nei palazzetti, il palazzetto va allestito, il palazzetto è freddo, devi mettere il parquet, devi mettere i fondali, devi mettere la musica, ma quanto costa allestire il palazzetto? Gli organizzatori che usano i palazzetti lo sanno quanto ci vuole palestire il palazzetto e poi tutto questo che si spende nell'allestimento del palazzetto doveva accadere sul biglietto d'ingresso dello spettatore sull'iscrizione del ballerino. Ecco perché tanti dicono ma voi come fate e come facciamo? Non facciamo i palazzetti, semplice, perché il palazzetto oltre a essere scomodo va allestito in un certo modo e allora da qui nasce l'esigenza, la mia spinta, quindi tornando in questa rubrica a Buongiorno Roma parlando di calcio, stadio della Roma a Tordivalle, stadio polifunzionale, deve avere questo e quell'altro, mettiamoci in paraballo o adiacente o all'interno, tanto lo spazio c'è lì, struttura nuova, si parla di metrature, cubature, tu mi fai le strade ma io li faccio costruire due grattacieli, grattacieli te ne faccio fa uno ma tu mi fai la ferrovia, insomma si arriva a tutte queste diatribe per i quali a mio avviso credo che è difficile che si faccia giorno, però auguriamo che quanto prima una capitale, ragazzi non parliamo della città di provincia posta ai confini, stiamo parlando della capitale d'Italia che non ha un suo stadio né per la Roma ma anche per la Lazio vale la stessa cosa e non ha un palaballo, ci stanno campi buttati, a volte io passo in certe periferie, vedo dei centri sportivi veramente così lasciati andare, che ci piange il cuore, ora ecco perché da qui auguriamo che ci sia una rinascita culturale a livello politico per quanto riguarda lo sport che deve tornare a essere pubblico per tutti nelle scuole a basso costo, perché salute, perché più sport si fa, meno ospedali si riempiono, questo guardate ve lo dico ed è vero, quindi più sport si fa, più salute gode la popolazione, mi auguro che questo entri nell'ordine di idea di chi ci amministra. Ora tornando alla squadra della capitale, parliamo di Roma ma anche di Lazio, noi siamo sportivi, la Roma tanti si preoccupavano all'inizio stagione quando c'è stato qualche inceppamento da parte della squadra, ma io che vi dicevo andatevi ad ascoltare le trasmissioni, guardate che dobbiamo dar tempo alla squadra di crescere, ai nuovi entrati di amalgamarsi, a questi brasiliani che ci hanno la saudate, soffrono di nostalgia del loro paese e devono in qualche modo, come si dice, abituarsi a quello che sono i ritmi. Cioè con lo scorso anno non si poteva guardare, quest'anno ha già fatto 13 gol, i nuovi si stanno inserendo, gente che per esempio come nella difesa della Roma, quel fazio che tutti sapete alla romana, ma questo non ci serve, non sa giocare, è diventato il perno centrale della difesa. Ma io ricordo, perché ho i capelli bianchi, anche Falcao fu messo in discussione tantissimi anni fa, ma non è all'altezza, è di classe, però non sa giocare, però gli manca questo, gli manca quello e poi è diventato quello che è diventato, perché questo è nel romano, nella tipicità del romano, essere subito, possiamo dire, diffidente in quello che è il nuovo. Quindi vuole immediatamente vedere i risultati, ma nello sport i risultati non si possono avere subito, perché ci sono altre componenti umane e tecniche che influriscono sul rendimento di una persona. Alla fine questi sono ragazzi, non sono dei robot, quindi vengono da altre squadre, vengono da altri contesti, da altre abitudini, anche alimentari, anche di clima e devono ambientarsi a volemose bene di Roma, all'abbacchio, al baccalà, a gira fuori porta, alle discoteche del sabato sera, a tutto questo contesto romano che indubbiamente è unico, Roma è unica, a Roma c'è tutto il contrario di tutto e quindi non tutti si adeguano bene. Ma ve lo siete spiegati perché molti calciatori che in altre squadre fanno bene vengono a Roma e sono dei brocchi, oppure abbiamo visto nel Torino giocatori che erano gli anni passati nella Roma, adesso sono al Torino, uno su tutti, a me piaceva di Aici, piaceva tantissimo, lì sulla fascia sinistra creava scompiglio e a Roma non andava bene. Adesso va a Torino e gioca bene, Iago Falchi, stessa cosa, a Roma è stato messo in discussione, pure erano giocatori che hanno fatto benino, magari dandogli un po' più di fiducia, un po' più di tempo, avrebbero potuto portare avanti la causa nella capitale. E queste sono le scelte che si fanno sulle persone, guardate accade nel calcio ma anche nel ballo è così, ma chi quello, quello non sa ballare, ma chi quello, quello ha preso il diploma ma non ce l'ha, quello, insomma, la critica umana porta a questo, è chiaro che poi nel calcio c'è la componente portafoglio, c'è il contratto, c'è il procuratore che lì chiaramente crea un altro problema rispetto a quello che è l'aspetto umano. Qui siamo nel professionismo per cui tu dai una prestazione e sei pagato per quella prestazione, nel ballo no, il ballerino per praticare il ballo deve pagarsi tutto, quindi non è un professionista, è un dilettante, anche ad alto livello per fare le gare internazionali se devi andare a pagare tutto, l'albergo, questo, quello e quell'altro, per cui non è uno sport di professionismo, il professionismo è quando c'è un contratto che ti tratta da professionista, io ti pago, ti do un corrispettivo e da te pretendo questo. Allora qui siamo nell'ambito professionista, nel ballo siamo nel dilettantismo, anche se ci sono competitori, maestri, tecnici, eccetera, che tutti i giorni fanno la stessa cosa. Io conosco persone anche in età avanzata, oltre 60, intorno ai 70 anni, che con i loro trolley vanno due o tre volte alla settimana a fare le private, ad allenarsi, a fare gli allenamenti e poi ogni tanto vanno a fare le garette. Quindi tutto ha spese loro, però sono dei professionisti alla fine perché lo fanno in maniera costante, in maniera continuativa, con dei tutor che non c'è dubbio sono dei professionisti, però il contesto nel quale sono inquadrati, proprio perché non hanno un contratto e perché devono pagarsi tutto da soli, dall'albergo allo skating, all'iscrizione e all'abito, alla scarpa, al caffè e tutto quello che volete voi. Quindi per questo non sono e non saranno dei professionisti finché non ci sarà un qualcuno, qualche club, qualche federazione che gli dà un contratto con il quale lo mette in regola. E quindi dal calcio dove i soldi sono a fiumi, a balanghe, veniamo ai risultati di ieri. A Roma cosa possiamo dire per chiudere il programma? Rimpiange quei punti che ha perso strada facendo quando non era pronte, i punti persi a Cagliari, gli esperimenti che ha dovuto fare l'allenatore per capirci di più, perché se tu in ogni anno ti cambiano mezza squadra e tu devi ripartire da capo. È come io, se per la gara di ballo conto sul commissario, sui commissari che sono quelli e io li conosco, poi l'anno dopo sono costretto a cambiare segretari, commissari, commissari di pista, commissari di cara, io all'inizio devo prendere confidenza con queste persone e fargli capire il lavoro, come devono operare. Stessa cosa all'allenatore, se tu ogni anno gli cambi mezza squadra è chiaro che all'inizio stenterà perché c'è questi problemi di amalgama, di unione, di integrazione, di conoscersi, di capire quali sono gli schemi, il gioco che vuole fare l'allenatore e ci vuole tempo. È chiaro che le prime partite l'allenatore ha dovuto fare esperimenti con gente nuova, vedere, contare su questo, su quello, quello lo provi magari in una partita, infatti non andava bene all'inizio, è stato provato così, poi venivano a mancare i giocatori, per forza di cose sei stato costretto a schierarlo e alla fine hai acquistato un giocatore, perché poi nella vita ci sono anche questi fatti e questo mi è capitato pure a me quando giocavo a pallone. Io ve lo raccontai, ero piccolino, prima di fare facevo la carriera calcistica, un giorno andavamo a fare un torneo quadrangolare al Certosa, c'era un campo dove adesso c'è l'acquedotto e lì io giocavo poco, giocavo mai, l'allenatore non mi convocava, mi convocava, stavo proprio nei rincalzi, nelle riserve. Cosa accade? Che alla fine uno stava male, uno non c'aveva il documento, uno non c'aveva questo e quell'altro, quell'altro non poteva giocare, alla fine sono mancati tutti i giocatori delle riserve, ero rimasto solo io e solo io in quell'occasione proprio perché gli altri sono venuti a mancare, chi perde faianze tecniche, fisiche, impegni eccetera, abbiamo fatto una squadra solamente dei 11 per fare sto quadrangolare e lì ho avuto l'occasione di mettermi in mostra, dice però sto ragazzetto core, è piccolino e così core, non mi vedevano mai, stavo sempre nelle seconde file, nei rincalzi, ho avuto anche io la mia occasione per far vedere che seppure avevo questo fisico mingerlino, corevo come in treno e quindi alla fine sono stato poi utilizzato anche altre volte, stessa cosa accade nelle squadre di calcio, quindi purtroppo per chiudere questa parentesi e chiudiamo anche il programma, c'è questo gap tecnico con la grande Juve e cosa dobbiamo fare? Ma parliamo di un altro pianeta, di un'altra organizzazione, organizzazione tecnica societaria altamente professionale, oculatezza negli investimenti, disponibilità economica, io sapete conosco bene Torino perché sono anche di Torino e lì per fare una strada, per fare una fontana ci mettono poco. Sul Po a Torino, al centro di Torino c'è una famosa dica che è stata fatta nel 1800 dall'ingegner Michelotti che serviva per frenare la corrente del Po sotto il ponte, pensate un'opera idraulica del 1800 e lì è stata completamente ristrutturata alcuni anni fa, ci hanno messo anche le fontane sul Po che la notte sono illuminate e lanciano questi spruzzi, per dire che si fanno pure queste opere particolari che qui a Roma ce le sogniamo a mettere delle fontane sul Tevere la notte illuminate. A Torino sul Po ci sono le prime macchine elettriche, io le ho viste a Piazza Vittorio a Torino, c'erano le Panda nel 1995 alimentate con la pompa elettrica, cose che qui a Roma che è la capitale ce le sogniamo, quindi stiamo parlando tra Roma e Torino di un gap non solamente a livello calcistico ma anche a livello di tecnologia, di mentalità, di organizzazione di quello che era. Certo Torino non è grande quanto Roma, le borgate, l'area metropolitana, però perché lì gli stadi si smontano e si rifanno e qui per farne uno stiamo tripolando in questo. E quindi questo è il gap anche culturale e organizzativo che Roma deve cercare di colmare rispetto al nord. A Milano c'è la skyline, ancora noi qui, la skyline, abbiamo due grattacieli fatti pure male per esempio, brutti pure da vedersi in un'area qui vicino a Roma. Insomma questo la dice lunga. Allora io mi auguro che i tifosi della Roma, quali siamo noi, e anche quelli della Lazio si stanno comportando bene. Ieri veramente all'ultimo proprio per il rotto della cuffia, zona Cesarini, come si dice, hanno preso i tre punti con l'ultima in classifica, che vi parlavo di prima e di ultima, allora che deve fare il crotone? Lascia il campionato così chi partecipa alla gara di ballo come arriva ultimo, cosa deve fare? Deve essere contento di essere arrivato ultimo in un grande campionato di ballo, così come per il crotone una grande esperienza per essere stati nella prima volta nel massimo campionato di visione della Serie A. È una soddisfazione che tanti altri non lo possono nemmeno raccontare. Dice io c'ero, io ci ho giocato. Questo fa parte della filosofia dello sport. Quindi complimenti adesso, non so se si riuscirà a mantenere il secondo posto, io credo di sì, la squadra. Ecco poi volevo parlarvi per chiudere dell'espressione che sta girando su tutte le radio e le televisioni che ha avuto l'allenatore della Roma ieri. Io forse avrei detto che è stata una Roma rocciosa, ma dire che quella Roma è stata uta, è stata molto ciuta, a me, anche se io sono libero, è una parola che è stata una conquista perché c'è la libertà, poi magari se noi diciamo una parola fuori posto e no c'è la fascia oraria, non puoi dire quella parola, però l'allenatore della Roma si è permesso di dire che la Roma è stata uta. è stata rocciosa, solida. Vabbè, insomma, anche questo fa parte. Vedete, poi Roma, come un toscano, come Spalletti, ti porta poi ad utilizzare questa terminologia che si usa qui nell'area romana. Vedete, Roma che potere che ha poi nel romanizzare, nell'addolcire, nel saper catturare anche persone di... questa è la magia e la potenza. Roma è potente sotto questo aspetto, non c'è dubbio. Va bene. Insomma, è stata molto uta la Roma ieri. Vedremo, io penso che farà buon campionato. Ero mezzo positivo o negativo. Andatevi ad ascoltare le altre rubriche nelle prime puntate del... di settembre-ottobre. Però adesso, insomma, credo che il gap con la Juve non si potrà colmare, a meno che lo scudetto lo può perdere solo la Juve. E la Roma sta lì, non si sa mai. Bisogna sempre... è lo stesso discorso che io vi ho fatto col ballo. Tanti dicono, no ma io non vengo, vengo all'altra gara, non vengo a qui. Bisogna essere lì, essere presenti, ballare, ballare, giocare, giocare. Poi non si sa mai il titolo lì a portata di mano. Amici, veramente è stato un piacere essere con voi, tornare in radio questa sera, a Stapp Radio, Eredia Radio, per la puntata del Ballo Radio numero 90 che si chiude qui. Vi ringrazio veramente dell'attenzione. È stato un piacere ritrovarvi, so che mi avete contattato in tanti, vi ho visto qui su Facebook. Credo che questa sarà una delle puntate tra le più ascoltate. Ne ho avuta una su Eredia, su 500 erotti ascolti, che ancora il De Angelis la ripropone. Quindi è stato un bel piacere. Ok, allora siamo arrivati per la sigla finale. Eccoci qui, l'abbiamo già caricata, come dice il nostro fonico. Ci sentiamo. Allora, lo sapete, lunedì con la puntata nuova da Stapp Radio, giovedì. Poi mercoledì vediamo se facciamola subito adesso, faremo radiocampionato, parleremo della gara del 29 su Radio Ballerina One. Poi la puntata televisiva la manderemo giovedì sera e per cui avete una settimana piena di Ballo in TV, Ballo in Radio, con tante informazioni, dissertazioni, opinioni, tutto quello che volete voi. Allora mi raccomando di ballare questo fine settimana, allenatevi, preparatevi, tutto quello che volete voi. L'importante è che ballate, perché il ballo fa bene, fa bene, fa bene. Grazie veramente per l'attenzione e un abbraccio, auguri ancora di buon anno alla prossima settimana. E per essere sempre informati, un'ultima cosa prima di chiudere, Facebook, gruppo pubblico, club Amici di Musicando. Grazie a tutti ancora, buonanotte. Ma che, già è finita un'ora? Che peccato, questa radio è come la macchina del tempo, sono tornato indietro di almeno 30 anni. Non ti preoccupare, una settimana passa in fretta, torneremo in diretta lunedì prossimo alla stessa ora, sempre qui da Stop Radio, si torna al passato, ma si trasmette al presente. Aspetta, fammi mettere la cassetta della sigla, alla prossima. Abbiamo trasmesso. Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ha condotto il studio, Tony Martineo. Tecnico del suono, Maurizio Artesani. Per contattare la redazione di Musicando, il ballo in tv, invia posta elettronica a pose di ballo, chiocciolalibero.it Questa è Radio Staff, si torna al passato, che si sappia in giro. Ehi, non ci lasciare.